I Red Silvershift si scatenano sul palco, due fan sperano di incontrarli. Nessuno di loro può immaginare ciò che li attende. Sono in mezzo a nulla. Una devastante tempesta si avvicina. Ma chi li osserva è ancora più devastante. Il loro destino è puro orrore. Cinque ore di terrore. Cinque ore di terrore. Un romanzorro di tebolo vantanare. Disponibile su Amazzo. Un romanzorro di stromani. Chi li osserva sia discernibile. Sni kinds non meno. Hai di terrore.